Greggio è nato a Cossato. All'epoca in provincia di Vercelli. Ed è tifoso della Juventus. Suo padre Nereo era il direttore di un'azienda tessile dove lavorava anche la madre. Destinato dal padre è un importante ruolo in banca. Imbrogliò le carte. È vero. Mentre facevo l'università a Torino lavoravo in banca. Ma contemporaneamente avevo messo su un'agenzia pubblicitaria ed ero direttore di una pubblicazione sui filati. Ma il chiodo fisso era lo spettacolo. Dopo un'esperienza maturata a scuola. Così provai col derby a Milano e finì nei corridoi di Mediaset dove incontrai Antonio Ricci. I miei ruoli erano talmente corti che dovevo riguardarli con la moviola. La prima ribalta televisiva il giovane Ezio Lautenne nella storica Telebrella. Prima tv locale italiana. Il regista Pepo Sacchi, fondatore di Telebrella, ricorda nel suo libro autobiografico Il crepuscolo della tv gli esordi dell'allora diciottenne. Greggio, debuttò come cabarettista nel 1978 alla RAI con i programmi La Sberla e tutto compreso di Giancarlo Nicotra e Giancarlo Magalli. Anche se i suoi sketch non ebbero successo. In quelle trasmissioni Greggio ebbe l'opportunità di conoscere Gianfranco D'Angelo. Che lo convinse ad abbandonare la RAI per passare alla neonata a Fininvest. L'attuale Mediaset, in cui affiancò D'Angelo alla conduzione del programma comico Drive-In. Che gli diede grande popolarità. In particolare con la parodia delle prime televendite in cui metteva all'asta un quadro kitsch. Dell'inesistente pittore Teomondo Scrofalo. Sketch ripreso poi negli anni successivi nel programma Veline citato nel suo film Box Office 3D. Il film dei film. Da quel momento in poi la sua fortuna non sembrò conoscere momenti di sosta. Nel 1988 su Canale 5 condusse assieme all'Orella Cuccarini Audience. Programma di Antonio Ricci che successivamente lo volle come conduttore del suo nuovo show. Paperissima ha trasmesso per la prima volta nel 1990. In quello stesso anno divenne inoltre presidente di una squadra di calcio. Il Corbetta F.C. Carica che detenne sino al 1992. Nel 1993 tornò in tv con la terza edizione di Paperissima. Ma raggiunse la massima affermazione conducendo il TG Satirico Striscia la Notizia. Altro programma ideato da Ricci. Lo condusse per la prima volta nel 1988 e, a parte l'edizione 1991-92, è stato sempre riconfermato, presenziando ad oltre 4.000 puntate ed alternandosi alla conduzione con Enzo Iacchetti ed altri. Fra cui Michel Unzichere. Nel 2005-06, Franco Neri, ha recitato anche in diverse fiction mediaset. Anni 50, anni 60, Un maresciallo in gondola, O la va, o la spacca e, in coppia con l'amico Iacchetti. Benedetti dal Signore Occhio a quei due. Nell'estate 2008 subentra Teo Mammucari nella conduzione di Veline, che ricondurrà nell'estate 2012.